Ciao a tutti che ciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft siamo in welcome to find deliver esatto benvenuti in find deliver e ci sono i comandi esposti non ne capisco un motivo e questa è una mappa molto classica in realtà è una find button tranquillissima se nonché al posto dei bottoni abbiamo le leve e ha diciamo scosso la mia curiosità questa cosa perché di base se uno ci pensa i bottoni sono difficili da trovare le leve sono un po più complicate da nascondere che sono grosse c'hanno una protuberanza che tu devi attivare non è esattamente una cosa così difficile a trovare secondo me quindi ho cercato questa mappa perché sono davvero curioso di vedere è difficile o non è difficile comunque vediamo che informazioni vita benvenuto find deliver alcune informazioni che potessi non mi interessa scegliamo un costume perché quanto vale di scegliere un costume per partecipare in questa mappa e scegliamo un costume prendiamo il costume del melone eeeh l'anguria prendiamo il melone non è un melone è un anguria prendiamo anche questo qui posso non posso questo cacchio va bene no no cacchio l'ho piazzato a posso rompere ah ma non sono in adventure mode addirittura vabbè comunque indossiamo le cose del caso e sono diventato un melone gigante ottimo andiamo a vedere la prima missione il primo livello e a cercare questa leva set spawn point va bene lo clicco qual è il primo livello questo qui il mondo di lana ok a quanto pare non è tanto grosso cos'è sarà bene o male un chunk per si sono sedici blocchi per sedici ok ok devo trovare la leva nel senso di trovarla e piazzarla io pensavo fosse una cosa un po più sempliciotta della serie devi cliccare una leva trovare la leva e cliccarla e invece a quanto pare no qua c'è così easy così il primo livello è davvero così easy devo semplicemente prendere la leva da qui ma posso piazzare qualche parte a posso pensare avunque io voglia non sono in adventure mode non so se è un errore del creatore della mappa o se è voluto e soprattutto non so se servirà aspetta vediamo magari troviamo anche qualche qualcos'altro qui ci sono dei quadri ma a una stanza segreta con dei pipistrelli e allora mi viene un dubbio e il dubbio è non è che magari you found me ok ora vediamo cosa dice questo libro non è che magari ha bisogno di più leve per completare un livello Oppure semplicemente questo era davvero molto semplice non lo so vediamo cosa mi dice mmmm hai trovato c'è un painting con uno scheletro e devo passarci attraverso ma non era uno scheletro qua bello era il wither mi ha detto di andare attraverso un quadro con un teschio che sarebbe questo una doppia porta cosa ok lì c'è della lava e io non ci voglio andare ma ehm ok forse il fatto di non essere in adventure mode è ottimo altrimenti sarei morto in questo istante e non era una cosa bella io immagino di poter piazzare questo qui non so se magari c'era da fare un mezzo parkour si può andare in cima bello cos'è quella roba uuh figo è tipo un roller coaster qua c'è dell'acqua ma ah c'è una cesta ma è vuota vabbè allora niente da dire ragazzi il melone è stato fortunato ho trovato subito la leva andiamo a cliccarla e vediamo cosa succede se mi dà una pressure create un bottone un bottone quindi in realtà non è un trova la leva è comunque un clicca il bottone va bene va bene va bene va bene ma dobbiamo cambiare costume e per premoli tutti bene o male questo era il costume da neanche melone d'anguria andiamo a vedere cos'altro interessante c'è avevo visto una cosa bella se non sbaglio si è mosso ho visto male porcava che mi sta venendo l'ansia Ah ma c'era cacchio io ho spogliato il tipo ma c'era per terra il coso e c'era anche il coso incantato Ottimo c'è anche degli enchantment level di lusso cosa potrei prendere Lo zombie figo con gli occhialetti e le cuffie no prendiamo il creeper che in realtà è la skin di uno youtuber ma a noi non interessa Non lo prendiamo abbiamo anche pochi cactus molto appuntito va bene non ci interessa il fatto che ha appuntito Perfetto ora sono un creeper rosso ottimo andiamo ad affrontare il secondo livello e vediamo se è la difficoltà è progressiva oppure no Tanto la in fondo ci sono io Cos'è quella roba presto a livello 5 dedicato a questo youtuber ottimo il tempio il tempio eccoci qua Siamo all'interno di un tempio e questo livello è molto più piccolino cioè c'è molta meno roba che posso andare a vedere quindi potenzialmente Dovrebbe essere semplice O sbaglio vediamo cosa c'è scritte cosa c'è scritto il non così grande creeper faraone del il terzo a sono tipo le tombe dei faraoni E immagino quindi che all'interno delle tombe ci siano delle cose che io posso prendere delle ceste ma sono nascoste Dietro una tomba come in questo caso alla per sicurezza Vediamo che qui non ci sia niente di utile creeper Tutti i drop di creeper Ragnatele Interessante Ecco la troverò qui nella nella cesta qua finale La storia non detta non scritta The untold story Due pagine è così lungo ma a me non piace leggere non è vero a me piace leggere comunque creeper l'orribile creeper faraone creeper Orribile il quarto non so come tradurre ho dovuto a stompare la dam Ha nascosto tutta la sua campata nelle ceste cioè qua dentro cioè è pieno porca vacca comunque prendiamo sta trap e scendiamo Tutta sabbia non so se è una cosa positiva potrei morire da un momento all'altro aaaah Ottimo allora questa è la stanza con dentro tutta la gunpowder del faraone Ottimo cioè ottimo non lo so sarebbe bello se facessero esplodere tutto all'improvviso Oddio non lo so in realtà comunque dobbiamo trovare in tutto questo una leva Eccola Ottimo dovrebbe essere tutto in teoria non ci dovrebbe essere altro cosa c'è scritto qua una di queste ceste ha la leva Eh ma perché me lo dici scusa dov'è la difficoltà se me lo dici non devi dirmelo Ah va bene va bene leva piazziamo la leva boom e che no E scusi c'è un problema qua come fare qua boom ok siamo ai livelli clicca il bottone e ci siamo Cambiamo costume dobbiamo provarli tutti ragazzi è fatto così il gioco di questo non ci interessa più lasciamo tutto per terra Lasciamo anche questi dobbiamo affrontare il livello numero 3 Prendiamo l'aerobrine pig con la carota incredibile c'è qualche cosa fire aspect Minchia se attacco qualcuno con questa prende fuoco ottimo sono un maiale un po incazzoso quindi Va bene va bene quanto è che bello è il maialonzo di erobrine Andiamo terzo livello finora sembra facilino Caruccio ma facilino Il livello 3 eccolo qua mineshaft ti immagina leva se era qui era tutta una figata pazzesca Comunque eccoci qua siamo comunque all'interno di un 16 per 16 e dove nasconderei La la leva se fossi il creatore della mappa la nasconderei in un punto che non è pensabile Addirittura un piccone mi ha dato dato un piccone e un libro che si chiama diamond pegax che dice con questo piccone ti do il potere di rompere i diamanti ma quali diamanti Beh c'è una domanda però che io ti posso fare il creatore della mappa perché non hai perché io posso uscire dalla mappa in questo momento Ecco e qua posso vedere che c'è qualcosa e non è una cosa bella questa creatore della mappa dovevi mettermi in adventure mode Comunque dice che il piccone in teoria può rompere i diamanti rompiamo i diamanti Rispettiamo le regole anche se il creatore della mappa ha fatto in modo che io potessi non rispettarle ecco mi ha dato la leva con Spaccando quei diamanti qua non c'è niente diamo un occhio ma c'è qualcosa di interessante di qua questi sono blocchi di Carbone ottimo no il concrete infatti era un bel po' scuro qua c'è un'altra cesta ed è tutta bloccata Ok questa era una cosa interessante in realtà che non ha sviluppato bene il creatore della mappa mannaggia lui Poteva farlo meglio ma ci sono altri diamanti ma c'è qualcosa di nascosto una cesta con un libro che dice ehi guarda meglio No quanto pare no va bene andiamo a piazzare la leva dunque questo terzo livello è andato via molto 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 velocemente boom Completato andiamo avanti ma cambiamoci nuovamente perché non possiamo fare lo stesso livello con un costume Identico abbiamo visti tre fino ad ora è il momento del livello numero 4 ti direi quale scelgo quale scelgo quello del cavalluccio Mettiamo prendiamo il signor cavallo che sembra preso dalla serie quella di netflix bojack horseman E lui c'ha la mela e la madonna ma sta mela caccia Porcavata knockback 10 se trovo un mob questa roba lo faccio volare lo mando su marte ma va bene va bene è giusto così è giusto così Andiamo avanti andiamo al livello number 4 livello numero 4 rainbow ok Vediamo che cosa interessante questo livello ci sono dei villager li sento Aspetta vorrei non vorrei che io debba fare degli scambi però cos'è sta roba Ahi come stai grazie grazie perché Ah praticamente è iniziato a piovere perché ho cliccato il bottone e mi sta dicendo vai a casa E' quello con il cartello che ho scritto casa tua Ah questa è casa mia Ciao Miche è enorme sto livello non è un chunk sono diversi chunk Ottimo va bene allora io ho le mie ceste Dubito che ci sia una leva in casa mia sarebbe un po' scontato Questa non si può aprire questa non si può aprire vediamo dentro le fornace niente Posso andare a dormire cioè cosa dormiamo non posso neanche dormire ottimo va bene casa mia Ah aspetta magari c'è qualcosa qua sopra Niente il quadro Ah lo sapevo che dietro il quadro c'era qualcosa Vediamo boom c'è la leva c'è la leva ma a questo punto la mia domanda è Perché mandarmi direttamente a casa mia se le altre case erano vuote effettivamente Per forza dovevo mandarmi a casa mia perché le altre sono tutte finte Il villager qua questo è finito quello verde queste rotte in flash non sapevo dove trovarle Le pagine tantomeno la carne tantomeno Per forza così doveva essere ecco però io ho una domanda eccola eccola la porta perché non trovavo la porta Qua c'è una struttura strana dovrebbe essere una specie di tutemmino immagino non lo so Andiamo avanti questo era il livello numero 4 e anche questo è stato abbastanza facile se non che non mi funziona il bottone E questo potrebbe essere un problema perché non funziona il bottone io dovrei tornare a casa Facciamo manutenzione della mappa del nostro amichetto Il command block non funziona Porca vacca come fa non funziona il command block è settato male Posso neanche romperlo non posso selezionarlo Sapete cosa vi dico Andiamo nella No aspetta questa azzurra non penso che sia una cosa in cui sono stato Raga sto facendo tipo evadendo dalla prigione Torniamo un attimo in un livello che ho già visitato Allora qui se non sbaglio posso andare un attimino Entro vado a cliccare il bottone e uso questo per tornare alla stanza dei livelli Perché quello del livello 4 non funzionava Comunque andiamo a metterci l'ultimo costume Non so perché mi ha fatto iniziare a piovere mi dà un fastidio questa cosa Poteva anche evitare sinceramente Comunque lasciamo qui tutto il nostro amichetto orsetto I diamanti non ci interessano Prendiamo l'ultimo l'ultimo livello Curse Steve potremmo prendere Potremmo prendere l'arancia Prendiamo l'arancia l'arancia mi sta simpatica Ottimo 1 2 3 4 E la testa Boom ci siamo Allora ultimo livello per noi Livello numero 5 Si chiama Prestonplades Lo youtuber che io in realtà non conosco Nel senso non... forse ho visto qualche video qualche volta Qua c'è un... aspetta Ma manca la crafting... manca la pressure plate Amico Ma chi è creatore di sta mappa Per fortuna che nella descrizione c'è scritto che ci ha messo Tipo non lo so Un botto 5 settimane per fare sta roba Ma manca la pressure plate come faccio io Dovrei prendere della pietra ma non c'ho la pietra C'è del ferro c'è un blocco di ferro Questo è diamante Se un blocco di diamante non posso fare il blocco di diamante La pressure plate C'è qualcosa in cui posso fare la pressure plate Magari è tutto un trick e te lo fanno fare apposta Cheat In realtà no Non ha proprio senso Vabbè ragazzi rubiamo un po' di legno Facciamo la pressure plate di legno Cosa... cosa volete che vi dica? Non mi aspettavo che questa mappa fosse un po' bugatina Non sono in adventure mode Posso uscire dalle... dalle cose perché posso spaccare i blocchi Manca la pressure plate Diciamo che poteva andare un po' meglio eh Ho creato la mappa Era pure carino da tutto quanto Ci ha messo 5 settimane si però non sta andando bene Boom Non funziona neanche il coso Qual è il quinto livello? Non puoi farmi così Dai! Eccoci livello numero 5 preston plate Ho dovuto venire qui con la credit Perché altrimenti non funzionava il coso Qui abbiamo la porta con la leva E a quanto pare questo è un parkour Signore e signori Qua c'è una cesta non vorrei che fosse un mezzo troll No! Creatore della mappa No! Non puoi Cioè No! Come faceva a non vederla questa? Vi spieghi come faceva a non vederla? Questo parkour era anche abbastanza facile in realtà Oh cacchio no muoio muoio non posso morire Perdo tutto C'ho il keep inventory? Ok c'ho il keep inventory Almeno quello A questo punto ragazzi io non so che dirvi Se no... Vabbè Piazziamo questa leva Qui abbiamo un bottone In cima Vabbè almeno questo Thanks for playing Abbiamo il rollercoaster Vai giochiamo con il rollercoaster Almeno questo Eccolo qua Le schere Ci siamo Dai arriva la parte bella Discesa Poteva essere anche questo un po' più bellino Comunque Il concetto ci stava L'esecuzione un po' meno Perché ci sono stati diversi errori Dei command block erano senza comandi E non è una cosa ottima per una mappa Se proprio devo dirlo Comunque globalmente Ci sta Ci poteva stare Dai È stato comunque un modo carino Per passare Questi dieci minuti Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Ci vediamo nel prossimo episodio Di minecraft o di qualsiasi altro gioco O altra serie Ciao a turuturu tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti